Grazie a tutti! 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 Poster, abbiamo bisogno di un poster. Ok, ok. Ok, perfetto. Ok, quindi credo che potremmo avvicinare. E' una buona cosa. Si. Per esempio, avremo la nostra break in la mattina circa 10.30 o qualcosa. Sì, ci sono qui per il caffè Vika. E quindi potremmo se il lavoro va bene o se bisognava fare qualcosa. Io e Silden. Sì, Silden. Oh, allò! Un grande applauso per le ragazze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno! 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 and follow Anna, and that's it. We are following the groups and see if you need anything. Do you have this documentation? Yes. Everybody has this. Also, ask Anna, because we changed the room, so group number one is staying here, and group number four is in prison. It's on the other side of the room. And group number five is between group four's room. Group three and two are in the same room. But as the room for group five is so small, they can change to group four's last room. When the air is out. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Murbiana. Happy birthday to you. I hope you get there! ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.